Invito a pregare per le vittime delle calamità che in questi giorni hanno colpito gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'America del Sud, specialmente il Paraguay, causando purtroppo vittime molti sfolati e ingenti danni. Il Signore dia conforto a quelle popolazioni e la solidarietà fraterna li soccorra nelle loro necessità.